ciao amici quanto usate il prezzemolo in cucina sapete che ha molte proprietà benefiche io amo l'insalata di patate lessate con prezzemolo un classico della nostra tradizione per la sua semplicità questa erba aromatica è un ingrediente fondamentale non solo per il gusto ma anche per la salute le sue proprietà medicinali erano note già ai greci e agli etruschi che la consideravano un'erba magica gli etruschi in particolare la usavano per ottenere un unguento con proprietà antidolorifiche ma quali sono tutti i benefici per la salute legati al prezzemolo il prezzemolo è ricco di vitamina c un antiossidante che previene l'invecchiamento è anche diuretico e depurativo ideale per combattere i disturbi dell'apparato urinario e circolatorio stimola l'appetito e favorisce la digestione può essere usato come antigonfiore per punture di insetti vediamo ora insieme quattro usi alternativi e poco noti del prezzemolo se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video 1 tisana al prezzemolo calmante e antidolorifica con il prezzemolo si può preparare una tisana per distendere i nervi e calmare i dolori basta far bollire un cucchiaio di prezzemolo tritato in un quarto di litro d'acqua la tisana al prezzemolo si beve una volta al giorno ed è efficace anche per i dolori mestruali 2 per i dolci tutti abbiamo usato almeno una volta il prezzemolo per preparare primi piatti o condire insalate il prezzemolo grazie al suo aroma intenso ha la proprietà di eliminare cattivi odori come quelli del pesce molto meno conosciuto il suo uso in pasticceria e nella preparazione di dolci in particolare può essere usato per preparare buonissimi sorbetti al limone 3 dado al prezzemolo con il prezzemolo si può preparare anche un dado vegetale fatto in casa un'ottima soluzione per evitare di acquistare utilizzare dadi industriali nocivi per la dieta basta frullare una parte di sale con quattro parti di prezzemolo secco e una parte di altre erbe aromatiche miste 4 come impacco per capelli il prezzemolo si presta anche all'uso cosmetico gli impacchi al prezzemolo per capelli garantiscono una maggiore lucentezza alla nostra chioma basta fare una crema con prezzemolo tritato e acqua e lasciarla in posa per 20 minuti amici se vi interessa questo argomento ho preparato apposta per voi una risorsa gratuita da scaricare sul mio sito trovate il link in descrizione qui sotto o nella scheda cliccabile dalla piccola i qui in alto a destra avete visto amici quanti sono i benefici e gli utilizzi del prezzemolo per vedere tanti altri video sull'alimentazione per la salute la forma e la bellezza è facile iscrivetevi al canale attivate tutte le notifiche e scegliete le playlist dedicate per sostenere il mio progetto di salute naturale cliccate su abbonati al canale la salute è importante anche per i vostri amici condividete questo video può essere utile vivi consapevole e vivi meglio con la naturopatia di simona vignali